Ormai comincio a pensare che la musica si accorta che dovevo esprimerla io, perché avevo quattro anni. Come sentivo uno strumento e come lo vedevo, non volevo. Il mio nome è Ezio Bosco e nella vita faccio la musica, sarei un direttore d'orchestra, un compositore che all'occorrenza suona il pianoforte e oggi invece faccio il curatore per un giorno. La relazione musica e colore è una relazione amorosa, perché nel mio caso esiste proprio una forma di disagio, perché il suono mi cambia le percezioni sia del colore che dello spazio, anche del movimento. L'arlecchino con lo specchio è una maschera per eccellenza, avvivalente. È il personaggio che toglie la maschera e la mette, ma quando ha la maschera è diabolico e cattivo. Lo specchio è proprio quella parte in cui in realtà noi distorciamo noi stessi. Oggi ho fatto un programma rivisto per uno specchio, per un pianoforte e un violino. Picasso è un uomo che desidera perdersi. Mi sono reso conto, cercando di imparare da questo arlecchino, quanto questo per Picasso sia vero. Quindi, per esempio, la relazione è un uomo.